Ecco lo vedete uomini e mezzi in mare per affrontare la settimana più calda dell'anno sotto il profilo della sicurezza nella navigazione nella balneazione anche alla Capitaneria di Porto di Salerno. Abbiamo questa mattina un incontro con la stampa per ragguagliare sullo Stato e soprattutto sul bilancio fino ad oggi ma per illustrare quello che è stato messo in campo dalla Guardia Costiera per questi giorni caldi dal punto di vista proprio dell'afflusso dei bagnanti e dei diportisti. Ecco questi giorni caldi anche in provincia di Salerno. Lo sentiamo ai microfoni del comandante Trogu. Oggi è ferragosto ma abbiamo un lungo weekend perché il ferragosto di venerdì ci impegnerà anche il sabato e la domenica ma comunque siamo qui per far passare queste ore di vacanza nel migliore dei modi a tutti quanti per poter usufruire della risorsa mare nel migliore e nel più sicuro dei modi. Quanta improvvisazione c'è ancora oggi? Quanta preparazione da parte dei diportisti o comunque di chi decide di fare vacanza su una barca? Bisogna distinguere perché ci sono veramente quelli che sono esperti sia sotto il profilo diportistico sia sotto il profilo natatorio sia sotto il profilo delle immersioni. E poi ci sono purtroppo quelli che si improvvisano i gitanti della domenica. A questi diciamo state attenti impegnatevi in una preparazione fisica, in una preparazione che possa farvi capire qual è l'attività che state per andare a fare. Noi vorremmo che il nostro 15-30 non venisse usato mai, purtroppo invece certe volte è l'ancora di salvezza per molta gente. Oggi tra l'altro è arrivata un'anale dei migranti a Napoli, dirottata, poteva essere destinata a Salerno, avrebbe creato problemi supplementari se fosse arrivata a Salerno? Sicuramente problemi li crea nella misura in cui il porto deve essere attrezzato per questo tipo di accoglienza. Quindi non è che la coincidenza con le crociere o meno, perché nel momento in cui arriva una nave di questo tipo magari non ci sarà la coincidenza con la crociera ma ci sarà la coincidenza con la porta contenitori, quindi le attività imprenditoriali di un porto vengono comunque coinvolte. Io non parlerei di dirottamento, io credo che a livello centrale si sia deciso che magari avendo Salerno già avuto tre navi di cui l'ultima la settimana scorsa magari era il caso di spalmare questo tipo di esigenza anche sugli altri porti campani. Poi chiaramente sono decisioni che vengono prese a livello centrale che noi rispettiamo e aspettiamo. Nel senso che quando sarà il nostro turno, con il preavviso che ci hanno sempre dato, organizzeremo nel migliore dei modi l'accoglienza.